Salve a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Mirko e questo è un nuovo video. Ed eccoci alla prima TBR del 2023, un nuovo anno, una nuova TBR, stesso format. So che molti di voi magari si aspettavano qualche brivido in più e invece no. Oggi, come sempre, andremo a vedere quelli che teoricamente sono i libri che mi piacerebbe leggere durante il corso del mese, in particolare ovviamente gennaio, e come sempre, cioè le abitudini sono comunque dure a morire, queste TBR non sono mai rispettate al 100%, ma, come dico sempre, ancora una volta, mi sono molto utili per darmi una traccia di quelle che sono le letture che veramente voglio e devo fare durante il mese specifico. Detto questo, io direi di cominciare subito a vedere perché ci sono delle cose interessanti in questo gennaio 2023 che, comunque, io già lo dico, l'obiettivo del 2023 era selezionare meglio i libri che vado a leggere, soprattutto i libri young adult. Ecco, questa TBR è piena di libri young adult, ma sono interessanti, quindi vedremo. E partiamo subito con una delle cose che, ammetto, io sto aspettando di più in questo gennaio 2023, che inizialmente, tra l'altro, non avevo completamente inquadrato, ma poi, quando ho approfondito, ci sono cascato con tutti i piedi. E sto parlando di Song of Silver Flame Like Night, il nuovo libro dell'autrice della trilogia di Blood Air, questo retelling di Anastasia che io avevo apprezzato davvero parecchio, almeno nel primo libro della trilogia, che, appunto, arriva con questa nuova saga fantasy di ispirazione, ovviamente, cinese, ma, in modo particolare, questo fa parte del genere, appunto, letterario Wuxia, che sarebbe il fantasy cinese. Ovviamente, tutta roba di marketing, lo sappiamo benissimo, ma su di me ha effetto. Sono, infatti, cominciati ad uscire gli artwork dei personaggi, quell'estetica, quel mood, e, ovviamente, io lì, subito, con Datemi questo libro, vi prego, adesso lo necessito. Da una parte, sono spaventato da questo libro, perché ho il terrore che possa essere una ciofega come tante altre, ma, dall'altra, spero davvero che mi piaccia, perché voglio che sia uno dei miei preferiti del 2023, così, già, la spariamo subito. Lo voglio, lo desidero ardentemente, quindi sono molto curioso, non del tutto fiducioso, ma, comunque, ci speriamo. Non vedo l'ora di leggerlo e, se tutto va bene, potrebbe essere, se non la prima, la seconda lettura del 2023. Ovviamente, in questa TBR di gennaio non poteva non esserci lui, ovvero, è il band di Lee Bardugo. Finalmente, mi sembra impossibile, ma è realtà, è uscirà, tra l'altro, anche in contemporanea, in Italia. Dopo due anni, abbiamo questo secondo volume, in cui continua, appunto, la storia di Alex Stern, una protagonista della Nona Casa, libro che io avevo amato, adorato con tutto me stesso. Devo essere sincero, non ricordo tutto. Quindi, non so come affronteremo El Bant, però lo affronteremo a testa alta, con una voglia di leggerla che io non ve la sto manco a raccontare. Spero vivamente che la Bardugo abbia fatto le cose a modino. Cioè, dopo le ultime cose che ha fatto, io ho un po' di paura della Bardugo, adesso non nascondo che ce l'ho, e il fatto che ci abbia messo quasi tanto a scrivere questo libro, un po' di ansia, me la mette. Ma non importa, lo leggeremo, non vedo l'ora. Poi questa copertina a me mi fa morire, la amo. È troppo inquietante, stupenda. Altro libro che non vedo l'ora che arrivi e di leggerlo sottostante è The Diviners di Libba Bray, primo libro di questa saga young adult dell'autrice che ritorna in Italia dopo non essere mai stato concluso. Libba Bray, lo sapete, ha scritto uno dei miei libri preferiti di sempre, che è Una Grande e Terribile Bellezza, leggetelo. E The Diviners, appunto, è un libro molto diverso da Una Grande e Terribile Bellezza, che, se devo essere sincero, in concretezza dalla trama non è che mi interessi al 100%, però comunque sono sempre stato molto curioso di leggerlo e soprattutto voglio leggere qualcos'altro della Bray e quindi The Diviners è perfetto. Sono sicuro che comunque mi piacerà, solo che non mi rendo ancora conto di quello che potrebbe essere effettivamente questa saga, però sono pronto a scoprirlo. Altro libro che inserisco all'interno di questa TBR, che in verità mi sarebbe piaciuto leggere prima, ma ho rimandato perché avevo delle necessità un po' diverse per quanto riguarda le letture, è Le Notti di Cliff Mouth di Mattia Manfredonia. Questo è un libro che mi è stato inviato, appunto, dalla casitrice Lumian, con cui ho accettato di collaborare per una serie di motivi e il principale era che, ovviamente, questo libro sembra molto interessante. Si parla di Streghe, che è ovviamente un punto a favore della trama di questo libro. Mi sembra molto interessante per quelle che potrebbero essere le ambientazioni, le atmosfere che l'autore è andato a ricreare nel volume. Primo libro di una saga, da quello che ho capito. Ho comunque fiducia nei confronti di questo libro. Tra l'altro una bellissima edizione, una bellissima copertina. All'interno ci sono anche, appunto, è veramente una bella, bella edizione. Staremo a vedere, sicuramente lo leggerò, appunto, sarà uno dei primi libri che leggerò a gennaio e quindi inseriamo anche lui. La prossima voleva essere una delle ultime letture del 2022, purtroppo però non sono riuscito a inserircelo. E abbiamo Trattuoni e Fulmini della Maguire, il secondo libro della serie, appunto, iniziata con una porta per ogni cuore. Sono dei racconti brevi, dei libri molto veloci, quindi sono sicuro che comunque, come è stato per il primo, lo divorerò. Non vedo l'ora di continuare la storia, anche se da quello che ho sentito sempre in dire in giro, la saga purtroppo perde andando avanti nei volumi, ma vedremo almeno di goderci questo secondo. Non vedo l'ora di capire che cosa succederà ora a tutti questi bambini, a Nancy, eccetera, eccetera. Poi, altro libro che volevo recuperare prima, ma purtroppo non ci sono riuscito, e mi piacerebbe un attimo mettermi in paro con l'autrice, che è appunto Alice Osman, si tratta di Loveless, che è uno dei pochi libri arrivati in Italia della Osman che ancora non ho letto, e ho bisogno di leggere un libro del genere da tanto che comunque non lo faccio, e quindi ho pensato immediatamente di inserire Loveless all'interno di questa TBR. Tra l'altro poi nel corso del 2022 dovrebbe uscire anche I was born for this della Osman, se non sbaglio il titolo è quello, che era uno dei libri che mi interessava di più dell'autrice, e quindi mi piacerebbe mettermi in paro il prima possibile, e quindi anche Loveless all'interno di questa TBR. Come buon proposito di questa prima TBR del 2023, mettiamoci un mattonazzo fantasy come piace a me, e ho scelto Ladri di Spade. È arrivato il momento di leggere Ladri di Spade, che tra l'altro in verità mi è ritornato in mente giusto qualche settimana fa, sono tornato a casa, l'ho visto, è là in fondo, nella libreria poverino, e mi sono detto io questo libro non posso continuare a rimandarlo, perché poi finisce che me lo scordo lì nell'angolo della libreria a prendere muffa, e non va bene, mentre è sicuramente una di queste grandi saghe fantasy degli ultimi anni che mi incuriosisce di più. Quindi ci proviamo, lo inseriamo all'interno della TBR, speriamo di essere nel mood giusto a gennaio, cioè ci spero vivamente, quindi Ladri di Spade. Il prossimo libro è la più recente aggiunta a questa TBR, è entrato appunto tipo un'ora fa, perché mi ha colto completamente impreparato, visto che non sapevo minimamente fosse uscito mare della tranquillità anche in Italia, grazie appunto alla nave di Teseo. Questo è un romanzo che avevo addocchiato qualche tempo fa, e che mi interessava tantissimo, perché è uno di quei libri che giocano un po' sulle linee temporali, quindi passato, futuro, eccetera, eccetera, e volevo ardentemente leggerlo. Non sapevo fosse stato pubblicato in Italia, perché ha una copertina molto diversa da quella originale, quindi non avevo fatto 2 più 2 con nome dell'autrice, lo sono venuto a sapere, e quindi subito all'interno della TBR. Molto curioso, speriamo non mi deluda. Ultimo recupero, recentissimo in verità, però ho paura anche questo di dimenticarmelo strada facendo, è Gilded di Melissa Meyer, che effettivamente, visto che continuo a dimenticarmelo di mese in mese, di giorno in giorno, è un campanello d'allarme, però comunque mi piacerebbe dare una possibilità a Gilded. Ho adorato Melissa Meyer con Le Cronache Lunari, e questo ha un po' lo stesso modo, questo retelling appunto di Tremotino, quindi voglio leggerlo, speriamo di riuscirci, mi sembra una lettura comunque molto veloce e molto leggera, quindi vedremo. E concludiamo con tre ultime novità che usciranno a gennaio, tre casi molto diversi l'uno dall'altro. Il primo è una rilettura, infatti mi piacerebbe leggere Noi i Cattivi, che è stato uno dei libri young adult preferiti dell'ultimo anno, mi piacerebbe rileggerlo in italiano, se ce la facciamo, perché no? Poi c'è Anatomy. Io in verità da questo libro presumo dovrei stare lontano, non so perché, ma non mi dà delle belle sensazioni, però allo stesso tempo mi sembra una storia che potrebbe rivelare qualcosa di interessante. Sembro un po' sulle tracce di Jack lo Scortatore della Maniscalco, e quindi questa cosa un po' mi spaventa, però forse qui c'è qualche barlume in più. Aspetterò sicuramente delle recensioni magari fidate per capire se potrebbe essere o meno nelle mie corde, però rileggendo la trama, non lo so, sembra molto interessante come libro, quindi vedremo. E concludiamo con Aroiness Fate. Anche questo è entrato oggi, praticamente, poco prima del Mare della Tranquillità, ed è un libro che inizialmente avevo bocciato, e che invece poi ho scoperto essere molto interessante, per un fattore, in verità ho visto una fan art, ho capito che è un romanzo un po' corale, ci sono tanti personaggi, c'è rappresentazione, da capire come, però io mi faccio fregare da ste cose. E voglio sinceramente leggerlo. Vedi perché io poi non posso dire, no, devi essere più selettivo con i libri, non sono selettivo. Bene, questa era la mia TBR, la mia prima TBR del 2023. Sicuramente svaccherà tutto quanto, ma io sono assolutamente certo, mi conosco, lo so, però l'importante come sempre è provarci. Quindi io vi aspetto nei commenti per sapere qual è la vostra TBR, se abbiamo qualche titolo in comune. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia e vi abbia magari ispirato in qualche modo con qualche nuova lettura da fare. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!